bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le news delle ultime 24 ore di fortnite le trovate in questa manciata di minuti nel video di oggi infatti parleremo di alcune modifiche o meglio di alcune curiosità sul nuovo bundle di ghost rider ma vedremo anche le prime immagini ufficiali del countdown che presto arriverà in game per annunciare l'arrivo dell'evento che probabilmente chiuderà la season 4 e ci porterà in season 5 tante news tanti leaks mi raccomando non dimenticate ragazzi di lasciare un bel pollicione in su e soprattutto voglio ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno non dimenticate soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e arriva direttamente questo tweet dalla pagina ufficiale di fortnite status che dice per colpa di un problema le nostre challenge del fortnite mers hanno avuto un termine prima rispetto a quanto era stato pattuito noi proveremo in tutti i modi a darvi comunque una ricompensa o meglio a sistemare le cose ed effettivamente ragazzi hanno trovato una soluzione non so se qualcuno di voi si era accorto che le sfide del fortnite mers erano terminate prima loggando su fortnite adesso verranno date tutte le sfide anche se non sono state completate quindi una bella cosa che hanno fatto probabilmente qualcuno di voi se ne sarà accorto io le avevo già terminate durante il fortnite mers ma in questo caso avrete potuto ottenere tutte le ricompense un bel ricordo da tenere ovviamente nell'armadietto per questo fortnite mers 2020 che non vedremo più e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché qua si parla di roba giusta il galactus ragazzi oramai ogni giorno che passa è sempre più vicino vi avevo già fatto vedere nel video di ieri o dell'altro ieri un'immagine molto chiara presa con il mirino come lo è questa ma non era tanto chiara quanto questa il che vuol dire che più passano i giorni e più lui continua ad avvicinarsi e tra l'altro c'è un'altra immagine veramente incredibile che ci dà un attimino la l'idea di quanto sia grande il galactus perché ragazzi vi posso dire che è enorme ma non è grande è enorme l'immagine riprende questo spettrogramma qua siamo nell'audio di gioco dell'ultimo evento di fortnite e mettendo la base musicale nello spettrogramma si vede chiaramente una figura che sta facendo qualcosa l'interpretazione dei dataminer dei leakers e a questo punto anche la mia è il fatto che la figura che si vede è indubbiamente il galactus la forma è proprio la sua e sotto sembra essere il lago quello sopra le industrie stark se così fosse ragazzi fatevi un attimo un'idea proiettatevi il lago in quell'immagine e provate a metterci quella figura di quella grandezza il galactus sarà enorme e non vedo l'ora di vedere tra l'altro l'evento come vi anticipavo una foto interessante ragazzi arriva direttamente di ieri pomeriggio da un dataminer che non avevo mai visto neanche io dove ci viene mostrato il countdown come vedete un countdown molto diverso da quello che siamo stati abituati a vedere fino all'ultima volta e ormai di tempo ne è passato veramente tanto un countdown che sarà anche un po più lungo come vedete è suddiviso in giorni ore minuti e secondi e da quello che sembra questo immagine sarà proiettato in cielo e probabilmente non solo in cielo lo vedremo sicuramente anche nella prelobby quindi dove c'è il tavolo degli eroi marvel questa immagine viene presa appunto dal cielo in game e non sappiamo ovviamente quanto sarà la durata del countdown io tendo a dire una settimana quindi secondo me apparirà il 23 novembre per adesso ufficialmente una settimana prima dal termine della season quindi staremo a vedere quello che succederà andiamo a parlare del prossimo argomento di oggi perché si parla ancora di modifiche fatte all'evento butterfly della season 6 mi spiego meglio il butterfly event della season 6 per chi lo ha vissuto è stato un punto di svolta per la storyline di fortnite perché ha dimostrato o meglio ha fatto conoscere ai giocatori una parte importante della storyline principale lo zero point dovrebbe essere proprio il punto di collegamento tra i vari mondi le varie dimensioni che ci sono nell'universo di fortnite e che ancora non sono ben chiare noi abbiamo visto anche un altro esempio nel trailer se non ricordo male di questa season di questo capitolo dove c'è una figura che è in prima persona che parla con l'agente jonesi anche lì dovrebbe essere appunto parte del butterfly event sono state modificate nelle ultime ore alcuni alcune voci della sottocartella dell'evento il che lascia ben pensare che probabilmente il galactus rientrerà in questa storia in principale ora io non ho assolutamente idea di come abbiano intenzione di farlo entrare nella storia in principale dello zero point dei visitatori a meno che il galactus stesso non sia uno dei visitatori vi ricordo uno dei sette noi non li abbiamo visti ancora tutti quindi è veramente un bel casino ma staremo a vedere mi piace il fatto che abbiano modificato questi file e andiamo avanti perché si parla anche del set del bundle di ghost rider che ancora non è presente in game sembrerebbe che la motocicletta quindi il deltaplano sia cavalcabile a me sinceramente vedendo questa immagine mi sembra un'ipotesi sbagliata perché io credo che lui si possa attaccare alle pedaline della moto però loro dicono che sia cavalcabile tipo surf in poche parole e per chi ancora non avesse visto in game il bundle è questo quindi ghost rider che è davvero bellissimo da vedere con tanto di backpack questa specie di meteora infuocata e non è finito perché oltre al backpack arriva anche il piccone che in questo caso sono due catene infuocate e poi come si è parlato fino a qualche secondo fa il deltaplano che non è altro che la sua motocicletta io non so ripeto se sia cavalcabile però è davvero davvero bellissima insomma ragazzi anche per oggi tutte le news io ve le ho dette vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao